È vero che è un'ipotesi che lei non vuole prendere in considerazione quella della retrocessione, però i tifosi sono comunque preoccupati per il futuro. Anche dopo l'intervista della scorsa settimana, molti continuano a chiedersi in caso di retrocessione il Presidente garantirà l'iscrizione alla squadra, anche eventualmente Lega Pro? Guardi, ho detto che la retrocessione, di retrocessione in questo momento non ne voglio proprio parlare perché sono convinto che questa squadra può e deve farcela. Comunque l'ho detto anche, ho avuto modo di ribadirlo, la Salernitana non è Lombardi né finirà con Lombardi, quindi i tifosi devono stare tranquilli perché la Salernitana o con me o senza di me avrà senz'altro un futuro. Se dovesse però restare in sella, a fine campionato garantirà l'iscrizione? Ma io ho già detto che sto operando in un momento di difficoltà, non è che non voglio rispondere alle domande o voglio girare intorno a quello che mi si chiede. Credo che in questo momento abbiamo solo un obiettivo e dobbiamo conseguirlo tutti insieme e raggiungerlo. Non si può parlare di cose che ancora non si sono verificate perché come ho già detto possono destabilizzare un ambiente che in questo momento è carico, è ottimista e quindi adesso l'obiettivo è quello e siamo concentrati su questo obiettivo. Poi valuteremo tutte le varie situazioni a tempo debito, ma non possiamo pensare oggi a quello che accadrà tra tre mesi, anche se io sono ancora sempre più convinto che questa Salernitana può e deve rimanere in sarebbi. Un'ultima curiosità, Presidente. Si è fatto vivo qualcuno nell'ultima settimana per quanto riguarda un'eventuale cessione della società? Guardi, mi sa che dovrò fare un bollettino a settimana perché fino a oggi non si è fatto vivo nessuno. Se questo può tranquillizzare i tifosi valuteremo anche questa opportunità.